ben ritrovati sul canale di strega gremory oggi siamo qui a parlare di ostara uno dei sabba minori uno dei quattro sabba minori prima di iniziare però io ci tenevo a farvi vedere una cosa questo è un disegno che ha fatto mio figlio per me il simbolo più bello strega gremory proprio l'ha fatto stasera ci tenevo l'ha fatto un quarto d'ora fa io ci tenevo proprio a farvelo vedere che il simbolo del di gremory ostara dicevamo ostara è uno dei quattro sabba minori sappiamo che i sabba si dividono in sabba maggiori e minori quattro sabba maggiori e quattro sabba minori i sabba i quattro sabba maggiori sono legati a fattori diciamo a cicli agricoli invece quattro sabba minori sono sono legati a fattori a cicli più che altro stagionali e quindi sono i quattro sabba minori gli equinozi e sostizi ostara è il sostizio e l'equinozio di primavera il mattino del mondo il mattino della luce quindi a ostara l'equinozio di primavera c'è la rinascita noi festeggiamo la rinascita della natura la vera e propria rinascita c'è da dire però un tanta roba sostara cominciamo piano piano dalla storia di ostara e poi dalle tradizioni dei riti che ci possono interessare per festeggiare al meglio l'equinozio di primavera intanto dobbiamo dire che l'equinozio di primavera solitamente è festeggiato il 21 marzo ma in realtà non è così per esempio quest'anno nel 2021 l'equinozio il vero equinozio di primavera non sarà il 21 marzo ma sarà il 20 marzo quindi un giorno prima ostara solitamente si festeggia fra il 20 e il 25 marzo quindi di anno in anno bisogna andare a vedere quando il quando cade effettivamente il giorno dell'equinozio di primavera quest'anno 2021 come vi ho appena detto il 20 marzo è il momento in cui il sole la notte dell'equinozio il sole e le tenebre hanno in perfetto equilibrio le stesse ore quindi avremo le stesse ore diurne e le stesse ore notturne questa cosa accade anche durante l'equinozio d'inverno solo che mentre dal giorno dopo le ore di luce di sole diminuiscono lasciando più spazio alle ore di tenebre a ostara l'equinozio di primavera succede l'esatto contrario in questa notte di perfetto equilibrio fra il sole e le tenebre dal giorno dopo quindi dal 21 marzo quest'anno le ore di sole prevarranno su quello delle tenebre e quindi avremo più ore di luce dal 21 marzo in poi rispetto a quelle di tenebre quindi il sole si conquisterà sempre sempre un pezzettino durante la giornata ostara si festeggia a marzo e noi sappiamo che per gli antichi romani marzo era il loro capodanno l'anno aveva inizio proprio a marzo e non a gennaio marzo mese dedicato a marte che era il padre dei due gemelli cos'altro c'è da dire su ostara su ostara c'è una una leggenda una storia importantissima e ostara è quella che poi i cristiani guarda caso fecero fecero diventare la pasqua quindi l'ennesima festività cristiana che deriva in realtà da una festa pagana ostara il nome proprio ostara deriva dalla dea eostre la dea eostre che altro non è possiamo identificarla anche con afrodite con venere con ischitar è la dea della fertilità della primavera la dea associata ai fiori ai colori alla primavera come appena detto da da questo nome eostre deriva anche un termine inglese hister la famosa pasqua quindi ennesima festa pagana cristianizzata ma andiamo a vedere dove nasce quando nasce allora si dice che eostre la dea stava passeggiando nel bosco sul finire della stagione fredda quindi sul finire dell'inverno e trovò nel bosco un piccolo uccellino ferito abbastanza agonizzante presa dalla compassione e ostre cosa fece raccolse questo uccellino e decise di trasformarlo in una lepre perché la lepre meglio sarebbe riuscita a superare quegli ultimi giorni d'inverno la lepre meglio si sarebbe adattata più dell'uccellino a trovare un nascondiglio e così fu perché l'uccellino essendo trasformato in lepre riuscì a salvarsi dagli ultimi giorni dell'inverno però la trasformazione fra da uccellino a lepre non era completa non era ultimata al cento per cento eppure essendo diventato una lepre l'uccellino aveva ancora la capacità di deporre le uova allora in segno di gratitudine e di riconoscenza verso la dea eostre depose delle uova ma non delle uova comuni delle uova molto colorate delle uova color arcobaleno e le diede in omaggio alla dea eostre e da qui uno abbiamo già nominato dei simbolismi che sono proprio della pasqua cioè presi anche questi questi simboli da una festività pagana e fatti anche questi cristiani quindi la lepre che diventò il coniglio e le uova perché a pasqua c'è l'usanza di decorare delle uova di bollirle e di decorarle di colorarle e di omaggiarle perché si omaggiano le uova si omaggiano in segno di fertilità perché ostara è come abbiamo detto prima il mattino del mondo la rinascita della natura la vera rinascita quella prima rinascita che avevamo lasciato a inboc con i primi segni che vedevamo abbiamo cominciato l'anno con il primo sabba che è yul yul pianta sacra ci ricordiamo il vischio yul ci chiudiamo in noi stessi per cercare di lasciarci alle spalle la parte cattiva di tutto l'anno quindi ci chiudiamo e lasciamo spazio alle tenebre non alla luce a yul cerchiamo di meditare su noi stessi a inboc c'è la vera e propria meditazione quando l'uomo rinasce inboc in questo caso pianta sacra il biancospino che ricorda il latte il latte dato agli agnelli e il vero sabba della meditazione quindi da yul che ci chiudiamo in noi stessi per lasciarci alle spalle quello che di più brutto abbiamo fatto i nostri insuccessi durante l'anno inboc arriviamo a una piena fase di meditazione fino a tirare proprio la testa diciamo dal terreno a ostara ostara vediamo la prima luce infatti uno dei modi per festeggiare e celebrare ostara è quello di alzarsi al mattino presto di affacciarsi alla finestra di essere proprio abbracciati e baciati dal sole non bisogna fare tante cose per festeggiare ostara veri e propri rituali però ce ne sono alcuni che potete fare tutti possiamo fare tutti per esempio curare il nostro giardino curare il nostro orto anche i nostri vasi nel balcone possiamo prenderci cura e seminare le nostre erbe aromatiche erbe che poi durante l'anno ci serviranno per preparare gli olioliti per preparare delle polvo per i nostri incantesimi questo è il momento giusto per seminarli infatti a ostara e gli agricoltori usavano far benedire i semi per il raccolto altri simboli di ostara sono per esempio i fiori e le fresie le narcisi le margherite le violette la lavanda gli incensi gli incensi con fraganze proprio di rosa di violetta fraganze floreali quindi a casa circondatevi di fiori e circondatevi di incensi come per esempio il gelsomino la rosa la lavanda circondatevi di questi incensi floreali circondate anche tutta la casa di candele candele anche colorate e anche profumate e anche naturalmente dei nastri nastri colorati a ostara possiamo anche cucinare preparare dei biscotti dei biscotti al miele possiamo preparare anche una torta di mele e decorare le nostre uova simbolo della fertilità e regalarle proprio come simbolo della fertilità a ostara oltre a cucinare questi biscotti questa torta di mele questi biscotti al miele possiamo raccogliere da un albero una mela e morderla la mela è il simbolo della vita della saggezza e il gesto di morderla è mordere la vita prendere la vita e affrontarla proprio a ostara che è il sabba della rigenerazione del cambiamento del nuovo lasciarci veramente alle spalle la meditazione di Inbot abbiamo meditato abbastanza ora sappiamo cosa vogliamo essere cosa vogliamo diventare e quindi a ostara lasciamo alle nostre spalle il nostro vecchio io nostro vecchio se per abbracciare il cambiamento d'altronde il messaggio che la dea e ostre ci ha voluto lasciare per ostara è chiarissimo io prendo qualcosa l'uccellino e lo trasformo in qualcos'altro una lepre trasformazione non totale al cento per cento perché la vera trasformazione totale al cento per cento la incontreremo al prossimo sabba quindi il primo maggio ne riparleremo a ostara la ricorrenza del matrimonio fra dell'unione carnale del dio e della dea sta a significare il dio e la dea propria ostara si uniscono in queste nozze sacre si accoppiano per celebrare e propiziare la fertilità quindi ostara la festività della fertilità dove i contadini gli agricoltori appunto come vi ho detto facevano benedire semi per il raccolto simboleggiata dal grano dai fiori dai semi dalla rinascita infatti in questo periodo e ne parleremo magari in un altro video abbiamo anche la luna piena la luna piena della lepre detta anche luna piena del seme ma di questo magari ne parliamo dopo con calma in un altro in un altro video i druidi festeggiavano ostara ostara che veniva chiamata proprio dai druidi la luce della terra in questo modo pregavano il dio e la dea affinché il sole che era in perfetta linea con le tenebre quindi come abbiamo detto le stesse ore di giorno e le stesse ore di notte vincesse sulle tenebre e conquistasse più spazio in irlanda sappiamo che san patrizio era l'evangelizzatore di quell'isola e usava una pianta sacra per ostara il trifoglio con il trifoglio che simboleggiava diciamo il padre il figlio lo spirito santo quindi la triade spiegava agli abitanti dell'isola il cristianesimo si serviva del trifoglio infatti san patrizio simboleggiato dal trifoglio si festeggia in irlanda proprio adesso a ostara e in quest'isola la pianta sacra di ostara è appunto il trifoglio in germania in austria c'è un'altra usanza ancora oggi non è un'usanza vecchia si usa a spargere ai quattro angoli del campo delle primule della menta piperita delle varie erbe aromatiche per propiziare appunto il raccolto al centro del campo invece si conficca una candela bianca come vi ho detto prima ostara è il simbolo dell'unione del maschile e del femminile quindi propiziare l'incontro la fertilità la rinascita della natura il risveglio della natura questa candela simboleggia appunto il simbolo fallico che entra nel simbolo femminile la terra viene conficcata nella terra quindi questo gesto di conficcare al centro del campo proprio questa candela bianca propiziatoria di fertilità ha un senso proprio per l'equilibrio che a ostara troviamo fra il maschile e femminile invece per esempio in sud tirolo e svizzera si usa e scegliere nel villaggio una collina con un albero sacro da quell'albero sacro vengono lanciati dei dischi infiammati infuocati e anche qui come vedete ricorre l'elemento fuoco la candela l'elemento fuoco lo ritroviamo anche svizzera questi dischi venivano lanciati più lontano possibile proprio infuocati dalla collina questo questo sbattere di questi piatti questi dischi che si rompevano si infrangevano cadendo a terra serviva a cosa a spaventare l'inverno a invogliarlo ad andare via chi lanciava chi riusciva a lanciare più lontano possibile questo disco questo piatto infuocato avrebbe avuto sugli altri un po più successo quindi durante l'anno un raccolto più rigoglioso mangiare fortuna quindi chi si aggiudicava il lancio più lontano sarebbe stato l'uomo più fortunato diciamo durante l'anno a ostara dobbiamo abbracciare la positività dobbiamo abbracciare il cambiamento dobbiamo come ho detto alzarci la mattina affacciarci alla finestra e essere baciati dal sole dobbiamo fare in casa le famose pulizie di primavera non è uno scherzo e non è un modo di dire hanno un significato le pulizie di primavera pulire da tutte le tenebre che ci ha lasciato l'inverno quindi spalanchiamo la nostra casa purifichiamola riempiamola di colore di fiori e occupiamoci della pulizia energetica all'interno della nostra abitazione possiamo anche costruire dei realizzare più che altro dei sacchetti protettivi propiziatori appunto di fertilità dei sacchetti di rigenerazione all'interno cosa mettiamo mettiamo del mais dei legumi delle monete anche che richiamano prosperità la moneta messa dentro il sacchetto richiama altri soldi oppure possiamo mettere del mais del appunto questi legumi o dei petali di lavanda chiudiamo il sacchetto lo purifichiamo su un incenso di purificazione quindi della salvia del palo santo possiamo mettere all'interno del sacchetto anche delle foglie di alloro e poi dopo averlo purificato lo carichiamo al sole con le nostre mani quindi stavolta non sarà la luna a caricare il nostro sacchetto di fertilità di prosperità ma bensì il sole queste sono delle piccole dei piccoli rituali che tutti noi possiamo fare a ostara la festa del cambiamento della rigenerazione della fertilità e c'è anche un'altra cosa che magari un altro rituale che potete semplicemente fare in casa se acquistate della soia in grani o della cera d'api potete farla sciogliere in un pentolino con delle con degli oli essenziali ma anche con dei petali di fiori prendete un uovo lo svuotate lo lavate all'interno e la metà del guscio servirà come contenitore come questo bicchiere in questo momento per il vostro per la vostra candela quindi realizzate le candele le famose candele di ostara con le uova con i gusci d'uovo li rompete l'uovo lo svuotate pulite all'interno e ci mettete questa cera naturalmente lo stoppino con la cera d'api o cera di soia con i vostri oli essenziali oli essenziali prevalentemente floreali quindi come vi ho detto prima la rosa il narciso la lavanda la primula e potete mettere anche dei grani di alloro l'alloro che è simbolo come ho detto già in tanti miei video di vittoria di raggiungimento di un obiettivo quindi potete divertirvi a realizzare queste candele e a fare i vostri dolci di ostara a decorare le vostre uova e a occuparvi del vostro giardino o dei vostri vasi e se vi fa piacere iscrivetevi al gruppo facebook un gruppo privato strega gremori e iscrivetevi anche al canale e attivate la campanella per le notifiche ciao